E' stata presentata ieri in conferenza stampa l'edizione 2021 del Rocella Jazz Festival, un'edizione sofferta ma che alla fine è arrivata nonostante il mancato finanziamento da parte della regione. Il tema dell'edizione 2021 è la Next Generation Jazz, dedicata quest'anno ai giovanissimi, una vetrina molto importante per gli under 30. Si tratta di otto serate dal 22 agosto al 29 agosto, con una festa il 22 agosto e il relativo concerto. Tra gli ospiti più importanti, ricordiamo Noa, ed il grande percussionista Dudu Quatè. E poi il 29, il gran finale, nell'ultima serata all'Anfiteatro al Castello, con artisti quotatissimi, con il gruppo Lehmann's Brothers, ma in particolare una serata che viene intitolata Super Galattica, dove ci saranno gruppi provenienti da tutta Europa. Salvatore Fuda, la città metropolitana, farà la sua parte per gli eventi anche per il territorio della Locria, e in particolare questo oggi per il Rocella Jazz, che è orfano della regione. Sì, sono qui stasera in rappresentanza del sindaco Falcomatà, che ha condiviso questo percorso affinché la città metropolitana potesse sostenere come partner istituzionale questa importantissima manifestazione. In realtà è stata una scelta che il Consiglio ha ratificato qualche giorno fa, per cui a tutti gli effetti la città metropolitana sostiene l'esperienza del Festival Jazz di Rocella Ionica, per il fatto che questo festival fa parte del patrimonio immateriale dell'intera città metropolitana. E non si poteva permettere che quest'anno, per alcune scelte di natura politica, di indirizzo politico della regione Calabria, legittime, ma che in realtà producono dei risultati così come abbiamo visto, perché non è soltanto il Festival Jazz che soffre di questa impostazione che ha dato la regione, ma anche tanti altri eventi culturali che si sviluppavano e crescevano all'interno del territorio e che oggi non hanno più quel tipo di canale di finanziamento. Per cui la città metropolitana è stata ben contenta a supportare in questo percorso il Comune di Rocella e tutta l'organizzazione, soprattutto i giovani che ci lavorano con passione a questa edizione 2021 del Festival Jazz e speriamo che possa essere sì un'edizione di resistenza, ma anche un'edizione che potrà vedere presto di nuovo a intraprendere quel percorso di crescita naturale che il Festival Jazz ormai ha intrapreso da anni. Sindaco, il Rocella Jazz non doveva saltare e non salta nonostante il bando regionale al quale non avete partecipato, perché? No, non è nonostante, perché noi abbiamo detto chiaramente che il nostro non era un atteggiamento polemico nei confronti della regione, era un dato di fatto, insomma assumono un dato di fatto, c'è che quel bando che certamente stravolge l'impostazione che aveva dato la Presidente Santelli è un bando che va bene per iniziative tipo la notte bianca in diretta su Rai 2 o la partita del cuore, insomma operazioni che definiscono commerciali non in senso spregiativo, intendiamoci, ma in senso positivo, ma che nulla ha a che fare con la produzione originale di cultura in Calabria. Non è un problema solo nostro, si è accodato recentemente Primavera dei Teatri, il Festival Leggere e Scrivere di Vibo, ma sono tantissimi i festival che non partecipano al bando, cioè non è il problema di chi finanzi, questa volta c'è una serie di festival che non riescono a partecipare a quel bando. A quel bando ci partecipano o i festival già sostenuti da fondi statali, e quindi per i quali il fondo regionale serve a colmare l'eventuale gap, oppure festival che stanno in piedi economicamente da soli per sponsor o per altri tipi di entrate che possono registrare. Professore Vincenzo Stagliano che è il direttore artistico del Rocella Jazz Festival, Nonostante la poca liquidità, diciamo così, quest'anno il Rocella Jazz propone un programma di resistenza importante, con importanti ospiti, ma anche di grandissimo livello di qualità. Ecco, intanto saranno quante serate e in che date? 22 è la serata d'apertura, poi 23 e 24 ci saranno quattro gruppi legati al tema del festival che è Next Generation Jazz, infatti questo sarà un festival all'interno del quale avranno molto spazio i giovani, giovanissimi direi pure, perché il 50% sono tutti under 30 e provengono da tutta Italia e dall'Europa anche, qualcuno addirittura dalla Turchia, questo sarà il tema di quest'anno, i giovani. Poi dal 25 al 29 ci sarà la tradizionale rassegna rumori mediterranei, con le grandi stelle del jazz mondiale, ci sarà Noah, ci sarà il grande percussionista Dudu Quaté che fa parte dell'Art Ensemble of Chicago, ci sarà per la prima volta un contrabassista di grande spessore che si chiama Luke Stewart, poi diciamo che il 29 ci saranno queste due formazioni, una che si chiama Super Galattica che raggruppa musicisti provenienti da tutta Europa, dalla Francia, dall'Italia, dall'Inghilterra, dalla Svezia e per chiudere un gruppo giovanile francese che si chiamano i Lemans Brothers, che fanno musica molto appetibile direi, seguita, ballabile, coinvolgente, questa sarà la chiusura del festival.